La, nel cuore produttivo del Veneto, sorge una fabbrica il cui solo pensiero fa gonfiare d'orgoglio il petto all'Italia intera. Qui, notte e giorno, giorno e notte, operosi calzolai si affrettano per completare nei tempi pattuiti la realizzazione di un vero gioiello di tecnologia futballistica italica, le scarpe da calcio Nike Celebration. Eccole qua, passione che traspira da ogni poro della pelle. E una volta completate, le scarpe Nike Celebration sono pronte per lasciare la fabbrica e salpare verso l'appuntamento con il loro destino. Ma quale destino? Eccole arrivare direttamente ai piedi dei nostri italici dei della sfera. Ad esempio Marco Materazzi, baluardo insormontabile, chiave dorata della cassaforte difensiva italica. Lui ha un debole per le leggiadre e fulmine Mercurial Vapor. E guarda là, Andrea Pirlo, soluttore più che abile della complicata equazione del centrocampo. La sua preferita è la precisa e puntuale Tiempo Legend. Ed ecco il nostro indomabile Gennaro Gattuso, che rimira a fiero e leonino l'ardita e instancabile Total 90 Supremacy. Apparentemente innocua, ma pronta a ruggire contro l'avversario. Produì in Italy.